buongiorno e benvenuti al mio canale oggi parleremo del servizio one di google insegnatamente della funzionalità della vpn che cos'è la vpn la vpn è l'acronimo di virtual private network per avere maggiori informazioni basta andare qua si digita vpn wikipedia ecco qua questa privata virtuale naturalmente e qui ci sono tutte le informazioni su come funziona questa vpn la vpn sostanzialmente nasconde la zona del pianeta da cui noi navighiamo per far credere che stiamo navigando da un'altra parte quindi serve per bypassare tutti i blocchi che ci sono su internet questo è importante soprattutto per i paesi non democratici quando appunto internet viene bloccato dal governo nei paesi democratici serve soprattutto per superare i blocchi commerciali diciamo così dunque vediamo come utilizzare appunto la vpn di google attraverso l'abbonamento a google one una persona pagina one punto google.com e qui ci sono i vantaggi di google one lo spazio di archivazione la sicurezza online ulteriori vantaggi e qui ci sono i piani come vedete google come sapete google offre 15 gb di spazio a tutti gratuiti e con google one i 15 gb diventano 100 gb che possono essere pagati annualmente con 19,99 euro l'anno oppure mensilmente con 1,99 euro al mese però i primi mesi con questo abbonamento si spaga 0,49 euro cioè quindi 49 centesimi e cosa offre google one 100 gb di spazio invece dei 15 assistenza di esperti google condivisione con un massimo di 5 persone quindi anche tutta la famiglia si può può accedere a questo account google one e ci sono moltissime funzionalità in google foto visualizzeremo una prossima volta poi ci sono vantaggi aggiuntivi per i membri come vedete vpn su più dispositivi cioè si può usare la vpn non solo da computer ma si può utilizzare anche da smartphone smartphone android ma anche smartphone iphone ipad e cosa interessante si fa un monitoraggio del dark web del web nascosto per vedere se alcune nostre informazioni sono presenti appunto nel dark web per il momento questa funzionalità funziona soprattutto negli stati stati uniti mentre in italia ancora è piuttosto assente come vedete inoltre i membri avranno questo cerchietto colorato intorno alla loro immagine del profilo naturalmente come vedete ci sono anche gli account google one per google play e per l'app store io mi sono iscritto da poco questa è la mia pagina google one come vedete io ho 102 gigabyte adesso a disposizione ne uso pochissimi a me stavano anche 15 non ho fatto questo abbonamento per i gigabyte posso fare il backup delle foto avendo 100 gigabyte di spazio chiaramente si possono caricare un sacco di e si può avere anche come abbiamo visto il monitoraggio del dark web con google foto si possono utilizzare nuove funzionalità che vedremo magari la prossima volta sia da destra sia da mobile il monitoraggio del dark web anche questo vedremo una prossima volta questo invece è a disposizione solo per gli utenti premium utenti premium che sono questi qua che pagano 99 euro al mese quindi lasciamo perdere per il momento e vediamo come procedere invece con la vpn si va qua questo è lo spazio per esempio vado spazio e visualizzo sono quello che sto occupando questo momento come vedete poco si va su vantaggi ci sarà anche la vpn ecco qua utenti più funzionalità di google foto questo lo vedremo monitora il dark web lo vedremo ecco qua protezione di vpn per più dispositivi si va su mostra dettagli e si aprirà un'altra pagina eccolo qua gli abbonati a google one possono usare la vpn di google one per accrescere la sicurezza come sapete le vpn a pagamento costano 5 6 7 8 euro al mese con google one che costa 1,99 euro al mese 20 euro l'anno dipende da come si può pagare si può avere a disposizione oltre alla vpn anche tutte quelle altre funzionalità quindi chiaramente è vantaggioso se uno ha bisogno della vpn qui come vi protegge la vpn è la vpn di google one, cripta e le indirizze del tuo traffico internet mediante un server vpn impedendo ai connettori dei servizi e ai curiosi di osservarlo inoltre riduce il tracciamento online nascondendo il tuo indirizzo ipi ai siti e alle app che utilizzi questo è la vpn qui ci sono altre funzionalità con lezioni su rete non sicure quando ti connetti a rete non sicure come la wifi pubblica senza una vpn le altre persone potrebbero essere in grado di vedere o intercettare le tue attività online quindi se uno va per esempio al supermercato in molti supermercati ci sono a disposizione wifi pubblici è bene utilizzare la vpn per appunto fare in modo che nessuno possa hackerarti i tuoi account e adesso come si fa si scarica l'app verrà scaricato un piccolo file che l'ho già fatto questo è il file che viene scaricato ci va insomma un dopo clic e si installa questa applicazione appunto che per appunto utilizzare la vpn dopo aver scaricato questa applicazione naturalmente poi vedremo anche come usare la vpn nel nel mobile cioè scaricando questa applicazione questo voi vedete questo è google one per android oppure scaricando applicazione google one per iphone chiaramente queste applicazioni sono identiche io vi farò vedere soltanto come si utilizza l'applicazione google one per android detto questo si scarica appunto questa app si fa sopra un dopo clic a questo file ex per appunto installare l'applicazione dopo averla installata si appunto visualiserà questo icona nel desktop si fa solo un dopo clic e si aprirà la vpn ecco qua questo momento la vpn è disconnessa quindi si può connetterla immediatamente nel momento in cui la connetto cosa succede ecco qua connessione la vpn in corso la sua attività online adesso è privata io quindi posso navigare e navighierò in maniera privata e nessuno potrà appunto visualizzare i siti in che navigo o perlomeno non riuscirà a avere il mio indirizzo ip andando su impostazioni ci può anche impostare automaticamente la vpn all'avvio del computer oppure si può uscire direttamente alla vpn nel momento in cui vi esco dalla vpn cosa succede ecco qua e adesso navigherò normalmente come prima se invece io riaccedo visualizzerò un messaggio che adesso sto navigando con la vpn e adesso vediamo come si usa la vpn di google one su android dobbiamo quindi installare l'applicazione google one per il nostro dispositivo android o ios si apre quindi google one questo è google one e qui come vedete c'è tutte le informazioni che abbiamo visto che la desktop quanto spazio occupo il backup la pulizia e le porte dal dark web e la vpn la vpn possa andare su gestisci per gestire appunto la vpn qui e posso quindi usare la vpn su momento è disconnessa l'opera disconnessa il tuo indirizzo ip è questo attiva la vpn per nascondere l'indirizzo ip e ridurre stracciamento online quindi adesso l'attivo come vedete la connessione vpn è stata attivata il tuo indirizzo ip è nascosto la sua rete è nascosta quindi diciamo che da mobile è ancora più interessante che da desktop vado più in basso dove ci sono le impostazioni che visualizza impostazioni della vpn ecco qua e come se si possono consentire alle app di bypassare le app per appunto utilizzarle con la vpn chiaramente possiamo bypassare tutte le app ma si sceglie quelle che ci servono per passare ovviamente i browser serviranno io ho selezionato sei app al momento ma che posso selezionare anche di più ci tocco sopra qui sono le app che ho selezionato per bypassare la vpn sono i browser vedere posso qua aggiungere anche altre app volendo che so posso aggiungerci questa alexa posso aggiungerci quello quello che mi pare canva per esempio ebay e insomma praticamente dopo che ho aggiunto le app adesso si salvano le modifiche e vengono e viene riavviata la vpn perché ho aggiunto altre app però ripeto bisogna bypassare le app in questo momento sono nove app che ho scelto di bypassare ma se possiamo bypassare anche altri le impostazioni vpn sono aggiuntive rispetto all'opzione per attivare la vpn quindi per attivare la vpn come vedete la vpn è connessa io posso quindi navigare con l'ip nascosto con la rete nascosto e questo per quanto riguarda la vpn di google one che secondo me io la consiglio non ho nessun interesse a consigliarla come vedete c'è qui in alto vpn che mostra che noi stiamo navigando con la rete una rete privata virtuale possiamo fare anche un'altra cosa interessante come vedete nel momento in cui io ho attivato la vpn vpn attiva io tocco qua per gestire la rete e quindi questa è la rete vedete la durata inviati ricevuti poi che posso anche disconnettermi posso anche annullare tornare indietro una cosa interessante il menu a scomparsa nella scomparsa vedete non c'è la vpn al momento mi sembra di no ma infatti allora si va qua sul sul menu modificare i quadri ecco adesso qui ci dovrebbe essere la vpn di google qualche parte ecco qua vpn di google si va sul più e si aggiunge alle icone del del menu a scomparsa che la vpn di google abbiamo aggiunta come vedete è qui in questo punto possiamo andare indietro e adesso vedete la vpn quadri google è stata aggiunta io posso quindi uscire dalla vpn vpn attiva disconnetti però poi posso aprire il menu a scomparsa e andare vpn di google one e quindi e attivarla nuovamente come vedete vpn è connessa con il bypass di nove app perché quelle punto che ho scelto questo credo che sia più o meno tutto quello che serve come informazioni propedeutiche per la vpn di google one alla prossima volta in cui vedremo anche altre applicazioni di google one